Allora, intanto complimenti perché hai parecchio talento e invidiabile direi, soprattutto da me. Comunque volevo chiederti ma com'è che è iniziato tutto? Cioè com'è iniziata questa tua passione e quando? Come mai hai deciso di svilupparla? Vabbè, passione come tutti noi, nasci in famiglia o da un amico. Noi, in casa nostra, grandissima passione per il calcio, per il Milan. È segato quasi in calza perché è giuventino. Comunque, grandissima passione per il Milan. E poi io sono sempre stato un po' portato a fare un numero, questa roba qui. Tanto che è stata anche la mia pecca quando giocavo. Mi dicevano, eh vabbè, che cercavo troppo il numero, no? Anziché essere concreto. E mi sono sempre portato dietro. Poi, allenando, ho sempre pensato che le generazioni nuove non hanno tecnica. Rispetto a noi, che eravamo vecchi, che eravamo sempre con la palla sul piede, sempre per strada a giocare, sempre ai campetti. E ho detto, mi invento la figura che andavo una volta, il maestro della tecnica. Perché anni fa, ai nostri tempi, c'era il maestro della tecnica. Quello che ti insegnava, che era spesso un ex giocatore professionista, ti insegnava a calciare, ti insegnava a stoppare la palla. E ho detto, faccio così. E da lì è nata, insomma, un po' una situazione che, insomma, mi ha dato qualche soddisfazione. E ecco, poi, tutto è in evoluzione. Non è che puoi allenare come allenavi 30 anni fa. Alleni con la fisicità che c'è adesso, però io penso che la tecnica faccia sempre la differenza, insomma. Grazie. Grazie.